Buongiorno, bentornati e bentornate. Eccoci arrivati all'ottavo episodio di G-Tech, una miniserie in cui stiamo esplorando le capacità di una moderna piattaforma digitale a servizio delle assicurazioni. Nella puntata precedente abbiamo parlato con Federica e abbiamo visto quali sono le proprietà di questa piattaforma nel prevedere il futuro sfruttando i più moderni modelli predittivi. In questa puntata invece andremo ad osservare ancora un altro aspetto e andremo ad osservare delle capacità diciamo un po' esoteriche ancora. E quindi ho bisogno di un aiuto e chi meglio di Marco, con cui di solito filosofeggio, mi può aiutare a andare a dipanare tutto quel che riguarda l'intelligenza artificiale di tipo generativo. Bene Marco, partiamo dal cuore. L'intelligenza artificiale generativa è diversa rispetto alle altre grandi innovazioni del passato. Ovviamente non mi accontento solo di una risposta sì-no, ma sono sicuro che tu saprai argomentare molto meglio. Ciao Ivano, buongiorno. Diciamo che la risposta al 90% è sì. E il motivo di questo sì sta in un consiglio di lettura che ho ricevuto di recente da un altro dei partecipanti a questa iniziativa, Simone, che appunto mi ha suggerito di leggere un grande classico, che è Furore di John Steinbeck, che sto leggendo adesso. Ed è un libro del 1935 in cui materialmente si parla di un'altra innovazione e il trattore, in quel caso, che è la causa della necessità per una famiglia di protagonisti di muoversi dal loro territorio attuale verso l'ovest, perché hanno perso il lavoro per colpa della maggiore produttività del trattore. Se noi da quel libro togliamo la parola trattore e ci mettiamo in intelligenza artificiale generativa, raccogliamo bene o male il contenuto della stragrande maggioranza degli articoli che troviamo sui giornali e degli interrogativi che ci stiamo ponendo ora. Perché dico sì allora? Non soltanto per questo, ma perché andando a teorizzare un po' di più, è sempre lo stesso problema. Cioè è sempre uno spostamento del meccanismo di delega tra uomo e macchina. Il problema è il tema su cui l'information technology, l'informatica, ha sempre lavorato. Su cui abbiamo sempre utilizzato la tecnologia al servizio dell'uomo. Ed è anche uguale il meccanismo che si vede nel libro, nella narrazione, rispetto a quello che stiamo vivendo ora. Nel libro c'è un passaggio a tre fasi che prima è paura del nuovo che arriva. C'è poi il rifiuto, ovvero l'opposizione, il vedere questa nuova innovazione, il trattore come il male, fino ad arrivare alla fuga. Loro si spostano verso l'overe a cercare fortuna in un mondo che non è ancora dominato dal trattore. Oggi vediamo tante persone che di intelligenza artificiale generativa nei confronti di questo tema hanno un atteggiamento di fuga, non vogliono che faccia parte del loro quotidiano. Ecco, il 10% che lascio nel dire che non è un'innovazione uguale alle altre è più che altro un 10% di speranza. E fa riferimento al fatto che mi auguro per la portata enorme potenziale di questa innovazione che questa terra, una paura, rifiuto, fuga, che effettivamente la reazione non perda in considerazione anche la fuga perché altrimenti ci sarà un mondo di serie A, un mondo di serie B in maniera abbastanza evidente, secondo me. Quindi appunto ci vediamo comunque una differenza. Io se devo pensare, ad esempio, mi viene in mente il fatto che se vuoi è uno strumento che di nuovo utilizza delle stringhe di ricerca come in un'altra rivoluzione che sono stati i motori di ricerca facevamo già. Però io vedo una prima differenza del fatto che Google, ad esempio, tu inserisci una stringa di ricerca e quella ti restituisce un risultato, la inserisci 10 volte e ti ristrutturirà lo stesso risultato. Inveceversa in un'intelligenza artificiale generativa, tipo c'è GPT, c'è appunto questo scambio alla WhatsApp, cioè dove c'è una chat, c'è uno scambio continuo e il passato influenza il presente ed il futuro. E quindi già quello vedo come un cambiamento. E tu cosa ci vedi anche di diverso rispetto al passato? Condivido assolutamente l'esempio che fai e, come tutti gli esempi, ha la virtù di mettere molto in evidenza qual è il cuore. Il cuore, dovendo usare una parola, probabilmente è che ha GPT, ha una memoria, cosa che il motore di ricerca non ha, che è una cosa anche estremamente affascinante. Volendo un attimo cercare di modellizzare questo, possiamo vedere che noi dal 2000, da quando abbiamo cominciato effettivamente la tecnologia dell'informazione in maniera a diventare mainstream, possiamo vedere, secondo me, una schematizzazione a tre fasi, dove all'inizio utilizzavamo la tecnologia per la finalità di contatto, volevamo raggiungere ogni parte del mondo e ogni persona nel mondo e ci viene in mente Facebook, la nostra cerchia di amici che si estende, eccetera. Dopodiché abbiamo visto il mondo di Instagram, in cui, secondo me, è segnata una transizione dal contatto al contenuto. Non è più tanto centrale chi sono i miei contatti, i miei amici su Instagram, quanto quello che mi interessa. Può interessarmi la cucina, il calcio, la politica, e sono tematiche sulle quali vado a vedere contenuti, a prescindere da chi sono i creator di questi contenuti, che quasi sempre non conosco. Secondo me, con l'intelligenza artificiale e con il progresso di intelligenza artificiale, a partire dalla fine della seconda decada del nuovo secolo, arriviamo a una terza C, da contatto, contenuto, arriviamo al contesto. Al contesto, un esempio banale per capirlo, è l'ultimo social media di nuova generazione, TikTok. Non soltanto è dominato dai contenuti, non esistono più i contatti, ma i contenuti sono talmente tanti che noi oggi non li scegliamo, ma li scegliamo l'algoritmo per noi in funzione dello studio del nostro comportamento. Un mondo di contesto è un mondo nel quale il nostro ruolo cambia. Cambia perché non siamo più chiamati ad essere creatori di contenuti, siamo chiamati a fare, per esempio, soprattutto due cose. In ingresso, in acquisizione, siamo chiamati a disciplinare quello che vogliamo, a selezionarli, con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale. Pensiamo all'atavico problema ormai della fake news contro la fonte di informazione affidabile. Dall'altra parte, non siamo più creatori di frasi con soggetto predicato e complemento, ma magari siamo nella situazione in cui possiamo chiedere alla macchina di avere un atteggiamento più da editor. La macchina ci scrive la frase e noi andiamo a chiedere alla macchina di essere più gentile, più sintetica, più didattica, quello che vogliamo. In questo senso vedo l'evoluzione che stiamo vivendo in questo momento con l'intelligenza artificiale generativa. Effettivamente il contesto è molto potente e probabilmente ci può dare delle nuove opportunità. A questo punto la domanda successiva che mi viene, visto che il nostro obiettivo è riferirci al mondo assicurativo e dire, ok, ma questo contesto come lo posso sfruttare a livello delle piattaforme digitali assicurative? Come ci possono, diciamo, migliorare le esperienze? Il mestiere dell'assicuratore è un mestiere complesso. È un mestiere che ha delle barriere all'ingresso di conoscenza, nel senso che comunque serve un bagaglio di conoscenze importanti in vari ambiti per imparare a fare l'assicuratore. Non è un mestiere che si intuisce in maniera evidente e facile. C'è bisogno di una formazione, è una formazione specialistica. In questo senso, secondo me, è importante, ho pensato proprio a questo tipo di utilizzo in quello che ho osservato l'ultimo anno. Noi tra settembre e dicembre del 2022, quindi 15 mesi fa, siamo stati travolti da quest'onna di CiaGPT, questo WhatsApp intelligente di cui parlavi tu. Però poi, ogni anno, le società tecnologiche fanno una conferenza degli sviluppatori. Quella di novembre 2023, Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, è sedito sul palco e ha detto che l'innovazione principale ha portato come innovazione principale i GPTs, ovvero questi assistenti, questi creati o dalla comunità o anche personalmente, che sono appunto dei CiaGPT customizzati secondo delle istruzioni. Le istruzioni possono essere riferite sia a quello che dicevamo prima, al twist, cioè alle modalità con cui questi assistenti virtuali devono lavorare, sia anche a quelle che sono le conoscenze che vogliamo dare a questi assistenti virtuali. Se vogliamo porre a riferimento con un'altra innovazione che ha riguardato gli ultimi anni, l'evoluzione con i GPTs è un po', nella metafora mi viene in mente, pensiamo agli esempi di intelligenza artificiale che conoscevamo fino a un paio di anni fa, gli Alexa, i Google Assistant, eccetera. Ecco, paragonare Alexa e Google Assistant a CiaGPT, capiamo la portata dell'innovazione perché è un po' come paragonare qualcuno che ci porta il pesce a qualcuno che ci insegna a pescare. Cioè, Alexa e Google Assistant sono soggetti a cui abbiamo insegnato a rispondere a una serie di domande. Nel caso dei assistenti di GPT, noi stiamo insegnando a fare un mestiere, quindi un potenziale enorme. Potenziale enorme, fruibile anche in un contesto complesso, con alte barrele all'ingresso di conoscenza, come le assicurazioni. Quindi trovare il modo di collaborare e di fare l'everage di questa innovazione è, secondo me, una chiave per il mondo di domani mattina, non tra due anni. Grazie Marco. Beh, effettivamente questi nuovi assistenti digitali penso che aiuteranno molto nel mondo assicurativo e probabilmente non solo, sono curioso di vedere dove ci porteranno. Per il momento ci fermiamo qua e vi invito a seguirci nella prossima e ultima puntata della nostra miniserie GTEC. Vi aspettiamo, non mancate.